Eccolo! Lui è Peppino! È un cagnolotto dolcissimo, guardate, vivacissimo, perché lui è un terremoto! È un peperino, ma guardate che bello questo cagnolino! Ha circa due anni, si chiama Peppino! È un nuovo arrivo del baumo, guardate che musetto! E un'altra cosa che bisogna dire di Peppino, che è golosissimo! Eh, lui per i Vister farebbe qualsiasi cosa! È vero, Tato! È un cagnolino molto socievole, guardatelo, con di Elisabetta! E appena, si sono appena conosciuti, perché lui è appena arrivato e guardate come socievole, si lascia toccare! È un cagnolino piccolo piccolo, peserà pochi chili, perché guardate che è una taglia veramente piccola! Eh, lui sta aspettando un'adozione, anche lui ha fatto un lungo viaggio per arrivare fino qua e poter trovare una famiglia, dove poter vivere! Eh, che gli voglia bene, che lo ami, che abbia tanta cura di lui, diglielo Peppino! Venite a conoscermi, guardate che io sono simpatico, eh! Sono un cagnolino veramente simpatico! È giocherellone, mi piace fare amicizia! Io vado d'accordo anche con le femminucce, se per caso ne avete una in casa, non preoccupatevi che io vado d'accordo! Giochiamo tanto insieme, possiamo anche andare a fare tante passeggiate, se vi fa piacere! Io posso vivere anche in un alloggio, perché sono molto piccolino! Eh, allora vi aspetto qui al rifugio Bao, venite a trovarmi! Mi raccomando, eh, perché io vi aspetto! Ciao, mi chiamo Peppino, ricordatevene! Sì? Mi chiamo Peppino, guardate come scodinzolo quando mi chiamano! Ciao! Ciao!